Ad essere colpiti dai furti di serbatoio e conseguentemente del gasolio continuano ad essere le piccole imbarcazioni, non necessariamente ormeggiate in luoghi nascosti. Nelle notti scorse a subire il furto sono state alcune barche ormeggiate nei pressi del ponte Baden-Powell, vicino al palazzetto dello Sport a Borgo San Giovanni. I proprietari delle imbarcazioni sanno che ci sono alcune telecamere nella zona e probabilmente faranno richiesta che vengano visionati e filmati. In questo periodo in cui tutti si lamentano del caro gasolio ci sia contenta di derubare a qualcuno un pieno. Grazie a tutti! Grazie a tutti!